Fine settimana denso di tradizione e folclore, quello che si preparano a trascorrere i due comuni montani di Chiaramonte e Gulfi e Giaradana. I solenni festeggiamenti in onore di San Vito, il giovane martire e patrono di Chiaramonte e Gulfi, si avvicinano alla fase clou. Domani numerosi appuntamenti in programma, di mattina le due sante messe nella Chiesa Madre alle 9 e alle 11, pomeriggio invece l'esposizione del Santissimo Sacramento e l'adorazione eucaristica con le marce sinfoniche in Piazza Duomo e il tradizionale giro e sosta nelle chiese. Sabato sempre in Piazza Duomo, una serata dedicata all'intrattenimento, all'insegna del cabaret con protagonista il comico Gino Astorina. Quindi è previsto uno spettacolo musicale con la cover band, si viene e si va e con l'eccezionale partecipazione di Valerio Scanu. Due giornate intense insomma in vista della processione del simulacro in programma per domenica. Domani è il giorno più atteso dai fedeli e dei devoti di Giaratana e il 24 agosto la giornata in cui cade la solennità di San Bartolomeo Apostolo, patrono del centro montano. È la giornata caratterizzata dalla solenne e tradizionale pciuta del simulacro. Numerosi gli appuntamenti in programma già a partire dalle 7.30 del mattino, quando sarà celebrata la Santa Messa. Alle 8.30 lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà alla cittadinanza il giorno di festa dedicato al Santo Patrono. Alle 9 in programma il giro di gala del corpo bandistico Vincenzo Bellini, città di Geratana per le vie cittadine. A mezzogiorno poi la tradizionale sciuta del simulacro con i caratteristici giochi pirotecnici. Alle 21.30 la processione vespertina con il simulacro del Santo Patrono per le principali vie del centro montano. Alle 23.30 spettacolare rientro e riposizione del simulacro di San Bartolomeo Apostolo nella cappella dell'altare maggiore. A mezzanotte e mezza poi la festa si concluderà con il grandioso spettacolo pirotecnico incontrato a presti, visibile da tutta Geratana e anche oltre. Grazie a tutti.